Volentieri la parola a Cristian. Sì, la parentesi giudiziaria che spero non occupi per altre giornate il Tribunale di Cagliari riguarda le minacce di un tizio quattro anni fa, un conto è la critica politica, un conto è parlare di piazzale Loreto e di benzina con un manifesto a testa in giù, penso che vada oltre a critica politica, però siccome il Tribunale di Cagliari così come gli altri Tribunali italiani penso abbiano cose più importanti di cui occuparsi, io ho ribadito al Signore in questione che con una lettera di scuse e una donazione a un'associazione di beneficenza di Cagliari, per me la partita è chiusa, io non porto rancore, non chiedo vendetta, non mi interessa che lavoro fa sto tizio e come si guadagna da vivere, se chiede scusa riconosce l'errore e fa una donazione a un'associazione di volontariato di Cagliari, per me la partita è chiusa, se invece ritenesse di andare avanti nel nome della minaccia, allora poi sarà il giudice ad esprimersi, per me la partita può considerarsi chiusa. Lo ringrazio, fra virgolette, perché mi ha costretto a tornare a Cagliari in una giornata importante, bianca, dopo mesi di accuse, di bugie, di menzogne nei confronti dei Sardi e della Sardegna, giustizia almeno parzialmente è fatta, quindi grazie al popolo sardo per la generosità, per l'impegno, per il rispetto dimostrato in questi mesi, sperando che lo dimostri anche nelle prossime ore, perché ovviamente non è un liberi tutti, il virus non è sconfitto, occorre continuare ad avere prudenza, mantenere il rispetto delle norme, delle regole, però il fatto che dopo mesi di accuse come se voi foste gli untori di taglia del mondo, stasera a Cagliari piuttosto che a Nuoro, a Sassari piuttosto che ad Alghero, si possa mangiare una pizza anche per cena e si possa fare due passi con i genitori, con la fidanzata o con i compagni di scuola anche dopo una certa ora, spero che sia di buon auspicio per un'estate che questo è l'impegno della Lega, del Ministro del Turismo e di tutti i nostri uomini e donne che amministrano la Sardegna sia quella della rinascita, della Sardegna come terra bella e sicura dove da tutto il mondo venire a godersi qualche giorno di pausa perché è lavoro, perché è business. Prima di incontrare consiglieri e assessori ho incontrato delle rappresentanze dei lavoratori dell'ENI e mi sono fatto carico di portare direttamente nelle mani dell'amministratore delegato Descalzi. Le loro richieste e le loro preoccupazioni sono 30 lavoratori diretti più 70 dell'indotto, quindi sono 100 posti di lavoro. Ho incontrato una delegazione dei lavoratori dell'area di Porto Besme che per quello che ci riguarda deve tornare a essere uno dei punti di riferimento perché la Sardegna è una terra che può vivere di bellezza, di turismo, di gastronomia, di allevamento, ma ovviamente l'industria è l'industria e quindi ci teniamo a mantenere i livelli occupazionali, anzi a rilanciare la presenza industriale e ambientalmente compatibile in Sardegna. Ho ascoltato quello che assessori e consiglieri hanno fatto, quello che stanno facendo i nostri amministratori locali, dal sindaco Titino Cau all'assessore di Cagliare, i nostri consiglieri a Sassari e a Nuoro. I dati del tesseramento nonostante l'anno orribile del 2020 hanno visto un triplicarsi delle iscrizioni alla Lega in Sardegna nell'anno più difficile di tutti, quindi contiamo che il 2021 sia ancora più bello. C'è fermento, ci sono amministratori locali di diste civiche che si stanno avvicinando al movimento e chiudo, metto a disposizione della Sardegna e del governatore Solinas gli uomini e le donne della Lega al governo, ovviamente ministri come turismo, disabilità, sviluppo economico, il vice ministro all'infrastruttura e che ho appena sentito, perché uno dei temi da riprendere con forza dopo l'anno di morte e disgrazia è quello della continuità territoriale, è quello dei collegamenti via mare e via aria, è chiaro che non puoi avere un boom turistico se non arrivi via aereo o via mare a un prezzo abbordabile nell'isola e quindi vuol dire occuparsi di Tirrenia, vuol dire occuparsi di Alitalia, ma su questo sia il governatore che l'assessore ai trasporti hanno le idee chiare. Un altro tema che mi sta particolarmente a cuore, me ne ero occupato, pur non essendo nelle mie competenze da ministro all'interno, è quello dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, quindi il sottosegretario Gianmarco Centinaio sarà presto ospite della terra di Sardegna, quindi avere la Lega al governo dopo un anno e mezzo di blocco sostanzialmente di tutto, di quasi tutto, è sicuramente per i cittadini sardi una buona notizia, ce la metteremo tutta, se ci sono domande rispondo volentieri, però prima ci tengo a che sia Cristian a fare anche un riassunto di quello che ci siano detti durante il pranzo di lavoro. Grazie, grazie a Matteo. È stata una giornata importante perché siamo riusciti a riannodare i fili dopo un anno e mezzo veramente di blocco di molte trasmissioni rispetto all'attività della Regione e dei ministeri romani. Abbiamo l'opportunità, oggi dovrebbe completarsi, mi diceva Matteo, il giuramento dei sottosegretari dei viceministri, quindi il governo entra nella pienezza delle sue funzioni, abbiamo discusso di poter contare sulla squadra di governo della Lega per poter avviare una serie di tavoli sulle materie di maggior interesse. Dalla continuità territoriale, voi sapete che tutti i nostri modelli erano basati sul flusso di traffico precedente al periodo Covid. Oggi tutto questo è saltato, veniva pubblicato dal Sole 24 Ore una classifica degli aiuti di Stato dati in tutta Europa, dove avrete visto che Lufthansa va addirittura a 11 miliardi, la Air France, KLM va a 9, l'Italia da 3 miliardi dall'Italia. Noi vogliamo all'interno di questa partita capire come riusciamo a far arrivare l'avvertenza dei lavoratori eritali ad essere lavoratori pari a quelli di Alitalia, perché il secondo gruppo industriale del Paese nel settore aeronautico non deve essere il figlio di un Dio minore. abbiamo la possibilità di capire insieme al Governo finalmente quale possa essere il percorso per garantire continuità concreta nei cieli e nei mari e sotto il profilo dei mari è vergognoso che a distanza di anni questo Ministero non sia riuscito a fare le gare che doveva fare, a non trasferire le competenze amministrative alla Regione. Crediamo che si debba arrivare nel più breve tempo possibile ad una soluzione che dia un equilibrio di sistema sia per le merci che per i passeggeri, perché non dimentichiamoci che oltre il flusso turistico, il flusso di passeggeri, la Sardegna nella sua condizione di insularità ha bisogno di un efficiente sistema di trasporto delle merci, perché l'estiva sono le nostre autostrade. Esportare i nostri prodotti significa necessariamente avere possibilità di transitare agevolmente lungo le rotte del mare e poter far arrivare in Sardegna altre produzioni significa ugualmente avere continuità territoriale certa. Abbiamo grandi partite aperte con il Ministero dello Sviluppo Economico, che vanno da quella che prima ricordava Matteo del Sulcis Iglesiente, con la filiera della metallurgia non ferrosa di Portovesme, la partita di Siderallois, dell'Euralumina, di tutta la catena di produzione con la Portovesme di Piombo Zinco Alluminio. Abbiamo da vedere le partite sulle bonifiche dell'Eni, Porto Torres e Macchiareddu. Abbiamo insomma tantissimo da mettere in cantiere, ma non voglio dimenticare ruoli strategici come il ruolo di Garavaglia al turismo per poter ridisegnare una prospettiva turistica in una nuova normalità post-Covid. Su questo stiamo proponendo quello che oggi in tutta Europa e nel mondo viene dato come per acquisito, ci sbeffeggiavano quando lo dicevamo, serve un passaporto sanitario, un certificato di negatività, insomma un modo che consenta alla gente di potersi muovere nuovamente e rialimentare certi segmenti economici e produttivi. Non voglio però togliere spazio a quelle che sono le domande principalmente dei giornalisti, se avete dei temi nello specifico poi interverrò sicuramente dopo. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente Solinas per le vostre domande. Potete accomodarvi al podio. Prego. No, col microfono. Abbiamo necessità di trasmettere... Dato che siamo in diretta se no non... Ahimela, Nuova Sardegna. Prego. Senatore Salvini, buongiorno innanzitutto, buonasera. Due domande. Quando è arrivato in Sardegna è stato sottoposto a tampone oppure è passato normalmente all'ingresso? Prima domanda per capire se è già scattata l'operazione verifica. La seconda è questa. Ho letto un suo posto in cui esultava per il cambio della guardia nella cabina di regia del commissariato del commissario per... La presenza di un altro militare in quella posizione è un bene o un male nella sua visione? Grazie. Un generale di corpo di armata che in Italia e all'estero si è occupato di logistica sicuramente farà meglio del signor Arcuri. Non era una crociata personale, non ho nulla di personale nei confronti del signor Arcuri. Mi sembra che abbia dimostrato il suo fallimento in tutte le missioni in cui è stato chiamato a mettersi alla prova, dalla scuola alle mascherine ai vaccini alle primule. Quindi faccio i migliori auguri al generale Figliuolo e ringrazio il presidente Draghi per la tempestività della scelta. Per quanto riguarda il volo, sono arrivato tranquillo e riparto tranquillo. Sì, perché l'ordinanza sui controlli non è ancora stata fatta. Ma avevo testimoni a recensione, scusate. Preferiamo che funzioni bene, fare solo una messa in scena oggi non mi sembrava serio. Prego. Giulia Carrarini, sono di stasera Italia, Rete 4. Buonasera. Anche io avrei un paio di domande per il senatore Salvini, volevo chiederle anche io in realtà un commento su questa sostituzione del commissario Arcuri, è un primo cambio di passo importante che lei si aspettava dal governo Draghi e poi una domanda rispetto alla campagna vaccinale perché il governo vuole privilegiare l'età anagrafica, però c'è anche chi, come Bertolaso ha detto, si potrebbe, si dovrebbe forse dare la precedenza al mondo produttivo. Vorrei sapere lei come la pensa su questo. Grazie. Ma sui cambi, questo governo è in carica da dieci giorni, ha già cambiato il responsabile della protezione civile e il commissario del Covid. Se andiamo avanti con questo ritmo di cambi penso che siamo sulla strada giusta. Io ho indicato altri due temi su cui stiamo lavorando, quelli della pace fiscale e della rottamazione delle cartelle di Equitalia e il tema immigrazione che riguarda anche la Sardegna. Ovviamente su questo occorre un cambio di passo perché mai come quest'anno serviranno in Sardegna e in Italia turisti sani che pagano, non turisti poco sani che sono pagati per fare i turisti. Però con calma, ovviamente. Per quello che riguarda il piano vaccinale, no, non entro nel merito delle scelte, lascio che siano i tecnici a decidere a chi dare la priorità. Ribadiamo come lega l'attenzione particolare che va prestata al popolo dei disabili, che sono più fragili e più dimenticati di altri. Quindi una priorità nel piano vaccinale per i cittadini disabili di questo Paese, secondo noi, è assolutamente vitale e necessaria. Per quanto riguarda l'approvvigionamento, io anche oggi ho sentito diversi governatori che sono costretti a rallentare se non a fermare il piano vaccinale per mancanza di vaccini. E' questo il dramma. Le regioni si sono attrezzate per correre ma sono costrette a camminare perché mancano i vaccini. Io faccio il mio. Se non erro mercoledì avrò un incontro a Roma con i ministri della Repubblica di San Marino che stanno facendo meglio e più in fretta quello che non riusciamo a fare noi, approvvigionandosi di vaccini anche da altri Paesi, compresa Russia e Israele. Io so che c'è la disponibilità di mettere a disposizione anche dell'Italia decine di migliaia di dosi di questi vaccini. Io ricordo che la Repubblica di San Marino ha 35.000 abitanti, però ogni giorno vi entrano per lavoro 6.000 italiani e altre decine di migliaia italiani ci abitano intorno. Riuscire a fare un'isola covid free di alcune decine di migliaia di persone grazie alla collaborazione fra Italia e San Marino ritengo sarebbe cosa utile da fare. Incontro io i ministri, sperando che poi li incontri anche qualche collega ministro. Ovviamente mercoledì non è un ragionamento di geopolitica, a me non interessa se il vaccino arriva dagli Stati Uniti, da Marte, dalla Russia o da Israele. A me interessa che funzioni e che arrivi. Quindi se funziona nel cuore dell'Italia, anche se non è Italia come San Marino, non vedo perché non dovrebbe funzionare anche in altre zone, ritengo che come alcune isole greche si stanno mettendo in sicurezza per accogliere più turisti possibili, sarebbe bello che la Sardegna fosse la più grande isola europea a essere messa in sicurezza prima di tutte le altre, perché con tutto il rispetto per le isole greche è molto più bella e si mangia e si beve molto meglio. Quindi spero che il governatore Solinas abbia gli elementi per fare quello che ha in testa. Prego. Allora senatore, volevo chiedere se lei appoggerà la proposta del governatore Solinas della Sardegna come laboratorio per l'Italia per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Noi siamo zona bianca e tra l'altro non siamo tantissimi. Seconda domanda, avete parlato di rimpasto? Se nel caso avete parlato di rimpasto, se per caso sono in gioco delle deleghe o una delle deleghe della Lega? Se avessi parlato di rimpasto mi sarebbe rimasto sullo stomaco l'antipasto, quindi non abbiamo neanche sfiorato il tema e conto che non sia nell'agenda politica perché mentre l'emergenza per i sardi sono salute e lavoro, se fossimo qua a parlare di rimpasto ci ricovererebbero giustamente perché significherebbe vivere su Marte. Quindi per quello che mi riguarda non è all'ordine del giorno e sono soddisfatto della squadra così come è composta. Per quanto riguarda la fiducia nel governatore Solinas e della sua squadra, assolutamente sì. Io ricordo le polemiche di questa estate, quando è stato accusato di tutto e del contrario di tutto. Prima è stato accusato perché voleva ospitare in Sardegna solo coloro che erano tamponati, poi è stato accusato perché dalla Sardegna sarebbe partito il virus che ha colpito l'Italia. Io penso che chiedere controlli di chi entra e chi esce sia assolutamente diritto. Io poi sono per le libertà, questo ci tengo sempre a dirlo, io sono per le campagne educative, informative, sono contro le prescrizioni, le penalizzazioni, però siccome l'isola è un'isola perché il buon Dio così ha deciso e non è una regione del continente, sicuramente chiedere controlli di chi entra e di chi esce mi sembra sacrosanto sia che arrivi via aria sia che arrivi in maniera anche varia ed eventuale via mare. Sto seguendo anche personalmente poi la vicenda tirregna perché mi sembra veramente fuori dal mondo che si va davanti per anni in quella maniera lì con un esborso di denaro pubblico che se fosse dato direttamente alla regione Sardegna sarebbe molto meglio finalizzato e utilizzato. L'idea del laboratorio non mi piace mai, penso a Wuhan, penso che stiano facendo bene sia il governatore che l'assessore della sanità e conto sulla collaborazione del popolo sardo. Essere qua nel primo giorno di zona bianca è una fortunata coincidenza, spero che rimanga a lungo, nel senso che i ragazzi e intendo per ragazzi quelli fra i 10 e i 90 anni si godano con testa e criterio di quello che si sono conquistati, perché lo dico da milanese, io torno nel mio arancione rafforzato e quindi dico ai sardi tenetevi ben stretta e usate con criterio la vostra zona bianca che rimanga bianca il più a lungo possibile perché c'è uno straordinario bisogno di tornare alla normalità. Grazie, se non ci sono altre domande chiudiamo. Una domanda ancora, posso fare? Non c'è il rischio che se le regioni vanno a comprare sul mercato i vaccini, le regioni più righe possono comprare più vaccini e quelle più povere si trovano invece il soldo al mercato? Oppure, per assurdo, il prezio si serve più da più in alto che diventerebbe? Non c'è questo rischio che le regioni andando... Io mi auguro che sia il paese Italia a comprare vaccini, visto che da questo punto di vista non è un discorso di essere sovranisti o europeisti. Ci aspettavamo dall'Europa quello che non arriva, per errori di qualcuno in Europa evidentemente né a Milano né a Cagliari, qualcuno ha firmato un contratto che non viene rispettato e quindi spero che sia la Repubblica italiana a guardarsi in giro come stanno facendo altri paesi europei ma io ho visto l'Austria, noi confiniamo con l'Austria, l'Austria sta ragionando di sottoscrizioni di contratti per mettere in sicurezza la sua popolazione, altre nazioni dell'Unione lo stanno facendo quindi se io devo rivolgermi a Israele piuttosto che alla Russia, piuttosto a chiunque altro con prodotti ovviamente la cui utilità è certificata, perché no? Quello su cui stiamo ragionando sono i tempi di erogazione di contributi che a volte aspettano, aspettavano meglio anni per essere erogati, sicuramente l'anno di virus non ha aiutato il mercato da nessun punto di vista parlavo oggi di peste suina col governatore Solinas, questo potrebbe essere un altro brillante risultato raggiunto dall'amministrazione con la possibilità di tornare a esportare questo prodotto sugli altri mercati il primo input che ho dato al neo sottosegretario centinaio, dico neo sottosegretario perché dovrebbe aver giurato un'ora fa è di venire in Sardegna come sua prima destinazione perché quando era Ministro dell'Agricoltura e quando ero io Ministro dell'Interno aveva aperto un tavolo di cui poi non abbiamo più avuto notizie e quindi contiamo di ripartire da dove ci eravamo fermati. Grazie, grazie, ragazzi se parliamo però Paolo Sanna, Mega Radio Prego Vorrei sapere se la Lega stava facendo qualche proposta nell'immediato per altri ristori per le attività produttive anche della Sardegna perché comunque anche nel sulci siglesiente soprattutto c'è stata una moria di attività molti hanno chiuso e ancora non si chiuso Io so che è in lavorazione con cambio di nome il decreto ristori che diventa decreto indennizi superando il vincolo dei codici a teco e ragionando per categorie con dei massimali innalzati e dei diversi criteri di aggiudicazione rispetto all'eccesso di burocrazia precedente conto che diventi effettivo nei prossimi giorni perché ripeto sono 32 miliardi di euro che sicuramente non risolvono tutti i problemi del mondo però se ben indirizzati possono dare respiro a parecchi Chiudo con una riflessione che ho fatto stamattina con alcuni imprenditori che ho incontrato in aeroporto all'inizio del giro un altro tema su cui sto lavorando e su cui stiamo cercando documentazione al Ministero dell'Economia è quello del fondo anti-usura e questo vale per la Sardegna come per il resto d'Italia ci sono tanti imprenditori e commercianti che non possono accedere al credito bancario perché non ne hanno i requisiti perché sono in ritardo con una rata del mutuo con una ricevuta bancaria o con quello che volete voi chiaro che per sé se però vai in banca e hai bisogno e se tu hai bisogno non ti danno quello che chiedi rischi di finire in mano a un usuraio mi risulta che ci siano più di 120 milioni di euro del fondo usura non spesi al Ministero dell'Economia messi in circolo salvano la vita a migliaia di artigiani e piccoli imprenditori quindi ho già messo al lavoro anche qua il nostro neonominato sottosegretario dell'Economia e Finanze Claudio Durigon per sbloccare questa cifra che fatta percentuale per la Sardegna sicuramente aiuterebbe tanti imprenditori che se vanno in banca si vedono ridere in faccia grazie è una buona serata in sicurezza qui in Sardegna con la zona bianca grazie a tutti